Buona domenica, un saluto a tutti voi dalla redazione, ben trovati al primo appuntamento con il Tg del mattino, cominciamo dalla situazione del contagio da coronavirus in Molise, una situazione che resta molto distante da quello che è tornato ad essere l'andamento nazionale con l'impennata dei contagi, anche ieri il Molise distante dalla media nazionale con un solo caso positivo, un residente di Ferrazzano tornato dalle vacanze in Sardegna, ma sentiamo il dettaglio. Record di tamponi, 602 negli ultimi due giorni e curva del contagio che in Molise rimane molto al di sotto della media nazionale. Dall'ultimo bollettino diramato dall'ASREM è emerso un nuovo caso di una persona trovata positiva al Covid, nello specifico si tratta di un residente a Ferrazzano tornato dalle vacanze in Sardegna. Risultato tutto sommato accettabile che però induce i vertici dell'azienda sanitaria e quelli regionali a rinnovare l'invito alla prudenza e all'osservanza delle regole del distanziamento, oltre che a quelle del buonsenso e del rispetto della convivenza civile. Tuttavia i numeri del Molise, raffrontati a quelli più che preoccupanti delle regioni dove il contagio ha mietuto migliaia di vittime, restano molto contenuti e nonostante ci sia ancora qualche polemica sul numero dei tamponi, è evidente che la zona più aggredita è stata la provincia di Campobasso. In totale sono stati effettuati 32.155 tamponi dai quali è risultato contagiato dal coronavirus solo l'1,6% di chi ha effettuato il test. I positivi sono stati fino ad oggi 525, l'81,5% in provincia di Campobasso dove i contagiati sono stati 428 contro i 77 della provincia di Isernia per una percentuale del 14,6%, 22% i positivi di fuori regione. I cosiddetti cluster più numerosi si sono verificati nel capoluogo, quello più famoso della comunità Rom, ormai del tutto circoscritto, e gli ultimi delle persone arrivate in Molise, i venezuelani, i migranti e i turisti che stanno rientrando dall'estero e da località dove il contagio è ripartito con maggior vigore. Cominceranno a breve i lavori, anzi sono già cominciati i lavori sulla Trignina per mettere in sicurezza il viadotto di Santo Nofrio e per riaprire la strada però ci vorranno almeno tre mesi. Un percorso alternativo permetterà di ridurre in parte i disagi al traffico. Il servizio è di Sergio Di Vincenzo. Salvo imprevisti, il tratto della Trignina, compreso tra i due svincoli di Pescolanciano, riaprirà il 18 dicembre prossimo. Resterà chiuso al traffico per oltre tre mesi per consentire all'ANAS di mettere in sicurezza il viadotto Santo Nofrio. Per farlo sono stati investiti due milioni e mezzo di euro. Il traffico è stato deviato sulle rampe di collegamento tra la strada provinciale Aquilonia e la fondo valle del Trigno. In pratica chi viene dai Serni ed è diretto a San Salvo esce allo svincolo di Pescolanciano e prosegue per qualche centinaio di metri fino a raggiungere una rotatoria provvisoria creata ad hoc. Da qui si torna indietro e si imbocca la rampa che immette nuovamente sulla Trignina, seguendo le indicazioni per Vasto e San Salvo. Chi invece proviene dall'Abruzzo entra allo svincolo di Pescolanciano, il primo che si trova arrivando da Chiauci, va a girarsi alla rotatoria, torna indietro e si immette sulla rampa per Isernia. Questo sistema permette di ridurre i tempi di percorrenza, comunque stimati in circa sei minuti, fanno sapere dall'ANAS. Inevitabile qualche disagio al traffico, ma l'intervento non era più rinviabile. Sono diversi infatti sulla Trignina i viadotti che necessitano di manutenzione, a partire dal Gamberale, nel tratto fra Chiauci e Civitanova del Sannio. I lavori di messa in sicurezza, per i quali sono stati stanziati 3 milioni e mezzo di euro, sono a buon punto, ma in questo caso per ridurre al minimo i disagi al traffico si è optato per il restringimento delle carreggiate, consentendo così agli operai di lavorare in sicurezza e alle auto di transitare, seppur a velocità moderata. Tale intervento fu sollecitato in tempi non sospetti da un operaio di Civitanova, Giuseppe Padula. Durante un'escursione notò che i pilastri si stavano sgretolando. I fatti gli hanno dato ragione. Passiamo ora alla rassegna stampa con i giornali online e quelli che troveremo oggi in edicola. Il giornale del Molise.it parla del coronavirus con il record di tamponi, anche in Molise curva di contagio al di sotto della media nazionale. E poi macroregione adriatica, ripartire dal territorio per dare voce alle autonomie e spazio alle riforme. Nella sanità l'annuncio del ministro Speranza dal 1 settembre. Non si pagherà più il super ticket. Futuro Molise con una notizia di cronaca. A Isernia auto in veste cinghiali in località Ravasecca. Illesa la conducente. Siamo alla stampa locale con primo piano. In apertura ancora la scuola. Conto alla rovescia. Ultime trattative sul trasporto. Capienza aumentata e noleggio. Bus pieni fino all'85% e ricorso ai privati per soddisfare tutto il fabbisogno. La bozza è all'esame dei tecnici. Domani si chiude. Avvisi per la call dei docenti alla formazione anticovid del personale. Ci sarà Ricciardi. Poi in viaggio per Castel di Sangro seguono il navigatore ma finiscono su un dirupo tifosi del Napoli localizzati e trainati dai vigili del fuoco. Ancora un incidente contro i cinghiali. Un'intera famiglia di cinghiali a Isernia. Paura nella notte in contrada Ravasecca. Nel taglio centrale il covid. 300 tamponi. Un solo contagio. Altro caso di rientro dalla Sardegna. A livello nazionale battuto il record di test processati. Quota 100 mila. Intanto la romena di Ischia ha violato l'isolamento rintracciata a Napoli. Sempre per quanto riguarda il covid forniscono all'ASL un nome falso. Due tunisini di nuovo positivi. Virus accapriati. Si ricostruiscono i contatti con il Venafrano. Si sentono male su una barca diretta alle Tremiti salvati dalla guardia costiera. Per quanto riguarda lo sport ok ai lavori allo stadio di Selvapiana per 700 mila euro riapriranno quasi tutti i settori. Siamo ai quotidiani nazionali con il Corriere della Stasera no a un'altra chiusura. Conte prudenti ma senza limitare la ripresa. Scuole al via. Regioni divise dopo l'allarme di Macron. Positivi in leggero calo. Record di tamponi. Negazionisti. Scontri a Berlino. Virus ora da noi va meglio. E poi il parere perché risale il contagio. Nel taglio centrale c'è la foto di Liliana Segre e del suo appello nel giorno in cui compie 90 anni dopo il Lager mi salvò. Lo studio cari ragazzi tocca a voi. Prendete per mano il destino. Prendete per mano l'Italia. La senatrice a vita superstite dell'olocausto è nata a Milano. Il 10 settembre compirà 90 anni. Andiamo a vedere la prima pagina della Repubblica. Anche qui Covid cresce la paura. Tampone per la Francia dopo il boom di contagi. Il governo discute con Parigi. Esami obbligatori per chi entra e esce dal paese. Corsa ai test. Ieri in Italia sono stati 100 mila crisanti. Bisogna triplicarli e renderli più rapidi. Il documento segreto a febbraio previsti già un milione di positivi. Nel taglio centrale SOS dalla nave manifesto di Bansky salva 200 migranti e poi viene soccorsa dalla Guardia Costiera. La bambina che sostiene un salvagente a forma di cuore sulla motovedetta Louise Michel. E poi anche se la Germania riscopre l'ambizione di essere potenza, il commento di Lucio Caracciolo con la Germania sta pensando l'impensabile a fermarsi ago della bilancia degli equilibri euro-mediterranei anche a costo di accentuare lo scontro con gli Stati Uniti che dal 1949 si sono intestati l'area via Nato. Andiamo alla prima del Sole 24 Ore che parla invece di incentivi su benzina e diesel che rischiano di non bastare per quanto riguarda il settore auto. Il quadro del decreto agosto ha previsto 100 milioni di contributi per l'acquisto di veicoli a motore tradizionali. Dal 1 settembre ripartono le prenotazioni ma la dote potrebbe essere esaurita dagli acquisti di agosto. E poi un riferimento allo sport ma chiaramente con il Covid in agguato. Parte il tour della Francia dei 5453 contagi in un giorno, 1444 in Italia, la corsa in giallo, come vedete i corridori con la mascherina, davvero un'immagine che ha dell'incredibile, è difficile correre, vedremo che cosa succede in questi giorni. È già una fatica mostruosa correre in bicicletta in quel modo, poi con la mascherina diventa davvero un'impresa ardua. Renzi, test obbligatori e professori subito in classe, tamponi boom ma regioni in ordine sparso. Il Veneto ne fa il triplo del Piemonte. Parla il leader di Italia Viva, giudicheremo a solina dalla riapertura delle scuole. Nel taglio centrale i no mask, i negazionisti a Berlino e Londra. Il Covid è un'invenzione, ma come vedete dalla croce celtica che ha sulle spalle questo manifestante davanti al Bundestag, il palazzo del Reichstag, presidiato dalla polizia, non promette proprio nulla di buono. Anzi, la croce celtica è un riferimento abbastanza pericoloso. Libero, invece, sempre su Covid. Si parte sani, si torna malati, vacanze maledette. Siamo peggio oggi che a inizio estate, gli italiani in ferie scordano le precauzioni, ci si contagia in villeggiatura e in famiglia, confermato per battere il Covid, conviene tornare a lavorare. A Roma tre nigeriani infetti picchiano i medici per fuggire dall'ospedale. Sul fronte, diciamo così, degli amici del quotidiano, Zaia è il politico amato dal popolo, per vincere le elezioni non ha bisogno neanche di fare campagna elettorale. Briatore, invece, è odiato da tutta la sinistra. L'imprenditore dimesso dal San Raffaele De Luca ha la prostatite ai polmoni, la battuta velenosa del Presidente della Campania. E il Fatto Quotidiano, invece, cambia tiro e parla di economia. Un fisco anti-flat tax con aliquote su misure paggano i più ricchi, il piano di Gualtieri e Company sulle coste, sulle tasse. Ecco, l'algoritmo, riforma sul modello tedesco, calcolerà l'imposta per ogni contribuente. Se passa, sarà una piccola rivoluzione. Ci spostiamo sui quotidiani di area, quello cattolico della conferenza episcopale, avvenire, reato, respingere, torna, resta, per la verità, uno dei pochi quotidiani a spingere sulla campagna per l'accoglienza ai migranti. Tornano con permesso di soggiorno cinque ritrei riportati in Libia nel 2009, 400 salvati ancora senza porto. L'Italia aiuta la nave di Bansky, la sentenza pilota a Roma, illegale il fermo in mare, il diritto di asilo non può essere negato e, insomma, questa è una, diciamo così, svolta sulla quale sicuramente si consumeranno polemiche. Scuola, aperture ritardate, ipotesi controlli ai confini, contagi stabili al sud in classe, il 24, novità per i docenti. Andiamo a vedere la prima pagina del manifesto che titola sulla fiancata della nave Bansky, fatto ad arte, con il riferimento sul disegno, sul dipinto che c'è, dicevamo, sulla nave, la nave dello street artist Bansky in difficoltà dopo aver salvato 200 migranti del Mediterraneo, dopo ore interviene la guardia costiera che prende a bordo 49 profughi tra donne e bambini, l'artista accusa l'Unione Europea non risponde alle richieste di soccorso dei non europei. E qui c'è, come vedete, come faceva riferimento anche Libero, alla bambina che saluta le persone che salgono a bordo. il secolo di Fratelli d'Italia, entrano tutti, cambia tiro naturalmente, tre navi di organizzazioni non governative con 400 migranti e quella di Bansky verso l'Italia, sanno che facciamo entrare tutti, come avete visto, avvenire attitolato, dicendo che insomma è illegale respingere le persone. Ancora centrodestra con la verità, riparte la movida delle organizzazioni non governative, nella foto ricorderete la comandante che fece entrare Carola con lo scontro con Salvini, riparte la movida delle organizzazioni non governative, non fanno in tempo a smistare gli arrivi a Lampedusa che il centro si riempie oltre ogni limite, disordini, fughe e proteste i mezzi d'Italia e tornano i barconi guidati dalla nuova Carola e pagata dagli artisti. Schick, questo è l'opinione di Belpietro con la sua verità, morsi ai medici che li curano i migranti, tre abbiamo visto, positivi al Covid, mettono a suo quadro un ospedale romano. Chiudiamo come sempre con la Gazzetta dello Sport, andiamo a vedere questo titolo insomma un po' complesso, questa pagina mosaico, cerchiamo di decifrarla. Allora cominciamo con Pirlo chiama Geco, la trattativa più avanti del mercato in questo momento, una telefonata per spingere alla Juve il bosniaco della Roma, gli ha spiegato come giocherà con Ronaldo e Di Bala. Intanto, vedete, di spalla l'attesa di Coulibaly, vuole il City e sfida Napoli. Sul fronte della Milano Neroazzurra, Conte quanto conta. Il tecnico, detta la linea del mercato, si tratta lo scambio Skriniar-Dombele, si stringe per Vidal, Kolarov è pronto, altro giocatore in uscita dalla Roma. Messi resta guerra con il Barcellona, non sarà ai test medici, andiamo più giù. Imbra, c'è Tonali per te e il talento del Brescia, che sembrava essere destinato all'Inter, ma che era rosso-nero fin da piccolo, è stata scopata, come vedete, una foto, ha detto sì a Maldini e Zlatan sbarca, sono tornato a casa, porterò in alto il Milan. Andiamo a vedere però due notizie con cui chiudiamo la segna stampa. Altour cadono in cento, poi sfreccia Christophe, ma chiudiamo con questa notizia davvero che ha dell'incredibile, perché insomma la disegniamo anche di rosso, che è il colore Ferrari. Le auto di Maranello, un tempo dominatrici della scena, sono davvero relegate a meno che comparse. Ferrari sparita, le Clerc e Vettel in settima fila un anno fa erano prime, il Gran Premio del Belgio, ho guidato al meglio, ha detto Leclerc, ma insomma sono state escluse, diciamo così, dall'otto delle migliori alle prove, sono state addirittura eliminate e non si è capito bene nemmeno da quanto tempo non succedesse questa, diciamo così, debacle da parte di tutte e due le Rosse. Oggi la gara speriamo meglio. Questa era l'ultima notizia della rassegna stampa di questa mattina, vi aspettiamo al Tg delle 14, come sempre per il momento è tutto, Donato Mignogna dalla regia e il sottoscritto, vi auguriamo buona domenica.